Tra le nuove dame di Uomini e Donne spicca la splendida Morena Farfante, età, lavoro e percorso con Mario Cusitore Tra i tanti volti noti che, anche quest'anno, sono presenti nello studio di Uomini e Donne, il pubblico sta già facendo delle piacevoli scoperte, new entry pronte a prendersi la scena, soprattutto grazie alle frequentazioni intrecciate, da qui e nei prossimi mesi di Messa in Onda Gemma Galgani è un volto noto del programma, così come Armando Incarnato e Barbara Dei Santi, ben noti al pubblico anche Mario Cusitore, lo scorso anno al centro della scena come corteggiatore di Ida Platano, e Cristina Tenuta, ma in queste primissime puntate c'è già chi, pur all'esordio, ha saputo subito mettersi in mostra Senza dubbio, tra le dame del parterre femminile del trono over, l'attenzione in questi giorni è tutta posta su Morena, ma chi è la splendida e bellissima donna che, a quanto pare, ha ceduto al fascino di Cusitore? Tutto su di lei Chi è Morena Farfante, la nuova dama di Uomini e Donne, conosciamola meglio Mora, bellissima e dotata di un corpo mozzafiato, con alcune frequentazioni Morena Farfante è affinita al centro della scena di questa nuova edizione di Uomini e Donne e, grazie alla sfilata, ha avuto modo di incantare ancor di più tutti quanti con un fascino da lasciare senza parole In attesa di capire come andrà a finire la frequentazione con Mario Cusitore, tanti spettatori stanno cercando di scoprire di più su chi è Morena Si hanno poche informazioni su di lei, ma è originaria di Catania e, per professione, fa la pro-make-up artist Il pubblico può seguirla su Instagram, dove non manca di pubblicare contenuti, molti dei quali mettono in risalto la sua bellezza, e che sembra avere sempre più follower di giorno in giorno Al momento, il suo profilo vanta quasi 10.000 follower, ma siamo appunto solamente all'inizio della sua avventura al dating show di Maria De Filippi e, con le varie dinamiche, non sarebbe per nulla strano vederla spiccare definitivamente il volo anche sui social In poco tempo, Moreno si è messa subito in mostra tra le varie dame, da qui alle prossime settimane, non sorprenderà vederla costantemente al centro studio